Megnetti ho una storia da raccontarti e anche una domanda da fare a chi ci ascolta. Parti proprio carichissima, vai. Carichissima. Allora i miei nipoti, che sono due gemelli di tre anni, hanno letto un libro sull'anidride carbonica. Beh giusto, a tre anni, se non leggi un libro sull'anidride carbonica. Sono miei nipoti, mica per niente. E in questo libro alla fine viene fuori che c'è uno scienziato che è anche un po' un supereroe e loro mi dicono, ma tu che sei una scienziata, quindi sei un supereroe anche tu? È una bella domanda. Che è una bella domanda. Allora io gli ho dato una risposta, però mi piacerebbe anche sapere che cosa pensano le persone che ci ascoltano. La mia risposta è stata che le scienziate e gli scienziati devono scoprire i segreti dell'universo e quindi hanno un po' un superpotere e quindi sono un po' supereroi, no? E la risposta ha soddisfatto i nipoti quasi scienziati? Sì, sì, mi hanno mandato un vocale dove mi hanno detto siamo soddisfatti. Perfetto. Comunque, se invece avete risposte che vi sembrano più adeguate, potete scrivercele a civuelunascienza, a chioccelalpost.it e vediamo se magari ne troviamo di ancora più convincenti. Intanto oggi parliamo di cosmetici e protezioni solari che in realtà non lo sono, di come gli uccelli si sono messi a volare e di legumi senza sapore. Io sono Beatrice Mautino. E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del post si chiama Ci vuole una scienza. Megnetti, Megnetti, ne ho combinata una delle mie. E che avrà mai fatto, Mautino? Non avrà risposto al citofono? Questo è il più grande sgarbo che possa fare, Mautino. No, Megnetti. Al citofono rispondo sempre. Ah, ok, va bene. Allora cosa hai combinato? Eh, qualche tempo fa ho ricevuto una segnalazione da una mia follower su Instagram. E qui forse devo fare un po' una premessa perché non è detto che chi ci ascolta sappia che io ho questa intensa attività sui social e su Instagram. Decisamente intensa a tratti, possiamo dirlo? No, possiamo dirlo. Ormai da qualche anno io porto avanti questa attività di divulgazione sui cosmetici e quindi mi capita di ricevere più o meno quotidianamente delle richieste di spiegare come funziona una certa crema oppure il perché di certe affermazioni della pubblicità. La follower che mi ha scritto mi parlava di un prodotto, una cipria, che viene usata da molte persone come protezione solare, anche per i bambini. Complici la promozione di alcune influencer e anche poi il passaparola che gira su alcuni gruppi Facebook che hanno decine di migliaia di iscritti e che sono dedicati a malattie della pelle come la dermatite atopica o la psoriasi. Ecco, quindi ci muoviamo in un territorio molto delicato, però prima di muoverci ulteriormente in questo territorio è bene fare un passetto indietro come facciamo sempre e cioè ricordare intanto che la scorsa estate avevamo dedicato un'intera puntata speciale di Ci vuole una scienza ai prodotti per la protezione solare nella quale avevamo spiegato come funzionano, quali sono le caratteristiche che devono avere e come anche devono essere utilizzati. Quindi andate a magari anche recuperare quella puntata che vi spiega tante cose visto che poi il periodo è anche quello giusto. In particolare i prodotti per la protezione solare è necessario che contengano dei filtri solari autorizzati, quindi delle molecole in grado di assorbire e o riflettere i raggi ultravioletti del sole e in particolare questi prodotti devono indicare in maniera molto chiara sulla confezione che tipo di protezione offrono con un numero che viene chiamato SPF, cioè fattore di protezione solare, che è un po' quel numero che vediamo stampato sulle confezioni scritto bello grosso e però ci deve essere anche un aggettivo che spiega se si tratta di protezione media, alta, molto alta, insomma eccetera. Quindi deve essere tutto ben descritto. L'SPF è un valore che si ottiene sperimentalmente misurando quanti raggi ultravioletti sono necessari per far venire un eritema ai volontari con o senza crema. Quindi diciamo il metodo è un pochino cruento di sperimentazione, però è efficace e rappresenta di fatto la quantità di raggi ultravioletti bloccati dal prodotto stesso. Quindi più è alto e più ne blocca. Ci sono delle norme standard condivise a livello internazionale che definiscono i protocolli per misurare questo valore sia per gli UVB, cioè raggi ultravioletti responsabili delle scottature, sia per gli UVA, cioè raggi ultravioletti che penetrano più in profondità e che sono responsabili, tra le altre cose, dell'invecchiamento della pelle. UVA e UVB sono entrambi responsabili di un aumento del rischio per i tumori della pelle e quindi anche per questo è importante schermare la nostra pelle dai raggi solari. E' bene ricordare che i valori di SPF sono validi solo se la quantità di prodotto applicata è adeguata e quindi la quantità adeguata è pari a 2 mg di prodotto ogni centimetro quadrato di pelle perché è poi la quantità che viene utilizzata per fare quei test di cui parlavi tu. Metterne meno significa ridurre notevolmente la protezione. Il valore di 2 mg al centimetro quadro tradotto significa circa 30 g per tutto il corpo, quindi un sesto di una confezione di crema più o meno e se andiamo sulle singole porzioni abbiamo 3 g, quindi più o meno un cucchiaino da caffè per viso e collo e per ogni singolo braccio e 6 g, quindi un cucchiaio da minestra all'incirca, per le singole gambe, la schiena e il petto. Ecco, quindi avrete intuito che si tratta di quantità importanti che stando a quei sondaggi non sono quasi mai rispettate, forse lo stavate pensando anche mentre ascoltavate le porzioni che stava dicendo Mautino. Ne mettiamo in media da metà a un quarto di quella che serve con il risultato che quei numeri che vediamo sulle confezioni devono essere molto ridimensionati rispetto a che cosa ci dicono perché se ne mettiamo meno, invece di essere 50, probabilmente più vicino a 10, 20, a seconda dei casi. Questo ci porta al primo punto della storia che vi vogliamo raccontare oggi perché se già con una crema è difficile rispettare quelle quantità, con una polvere è pressoché impossibile. La cipria che mi è stata segnalata aveva una confezione da 8,5 grammi, quindi in teoria per riuscire a coprire solo la parte del viso e del collo ne serve un terzo, quindi effetto madama butterfly proprio. Esistono in commercio delle ciprie che hanno una protezione, quindi che dichiarano un SPF, però sono pensate più che altro come un aiuto, quindi da mettere magari sopra il trucco dopo aver già applicato una crema sotto. Questo prodotto invece veniva percepito come esclusivo, quindi da usare da solo, e quindi io mi sono incuriosita e ho iniziato ad indagare. E quando Mautino si mette ad indagare, soprattutto sui cosmetici, si fissa moltissimo, quindi preparatevi perché... Eh sì, mi fisso, mi fisso. Il prodotto in questione ha un nome che rimanda in qualche modo al sole, però non indica sulla confezione né l'SPF né il grado di protezione. Viene solo specificato che è costituito da una miscela di argille e di minerali e che, qui citiamo tessualmente, è studiata come riflettente dei raggi solari. Sulle modalità di utilizzo vengono indicate situazioni come durante l'esposizione al sole, ideale non solo al mare e in montagna, ma anche in città, riapplicare dopo il bagno in mare o in piscina o dopo aver sudato, quindi indicazioni che troviamo anche poi sui prodotti per la protezione solare, e queste informazioni poi circolano anche sui social. Se in più ascoltate spesso c'è l'unascienza, sapete che spesso noi facciamo un esempio per il tutto e quindi naturalmente questo si può applicare a diversi altri prodotti che potrebbero adottare strategie simili che non sono sempre chiarissime nella loro comunicazione. Il prodotto del nostro esempio contiene ingredienti minerali come caolino, silice, mica e argilla, oltre a due ingredienti che rientrano nella definizione di filtri solari, e cioè l'ossido di zinco e il biossido di titanio. Lo trovate anche spesso indicato nelle creme solari. Questo è un secondo punto importante che vale un po' per tutti i solari. Il fatto che siano presenti dei filtri è un indizio che la cipria potrebbe avere una protezione di per sé, però non è una dimostrazione che poi ce l'abbia veramente. Infatti la capacità di filtrare o meno i raggi ultravioletti dipende da tanti fattori, come per esempio la struttura microscopica dell'ingrediente in questione, ma anche il suo contorno, cioè se è stato messo nelle condizioni di fare da protezione. Questo è il motivo per cui industrialmente si utilizzano dei test molto specifici per misurare il fattore di protezione e non ci si basa solo sulla lista degli ingredienti, anche perché sennò a quel punto potrebbero farli un po' tutti questi solari. Eh sì, c'è anche chi ci prova. Comunque, senza indicazioni sull'SPF e sul grado di protezione, noi consumatori non abbiamo modo di sapere se quel prodotto funziona e anche quanto funziona, quanti raggi blocca, blocca il 50% oppure il 95%. Insomma, sono differenze che possono fare appunto la differenza sulla nostra pelle e senza queste informazioni è un po' come giocare alla roulette russa con la nostra pelle, ma anche con quella dei bambini, se li usiamo con loro. E qui arriviamo al terzo punto e anche l'ultimo di questa storia, quello dell'uso e del passaparola. Ci sono infatti malattie della pelle, come la dermatite atopica, che sono molto complicate da gestire, perché non esiste un'unica cura. Spesso si tratta di un lavoro di messa a punto dei farmaci più adatti, ma anche dei prodotti cosmetici più adeguati o quantomeno che non peggiorino le cose rispetto alla condizione che si ha. Quando ci si trova in queste condizioni è abbastanza inevitabile andare a cercare in rete sui social suggerimenti e testimonianze su come magari si stanno regolando altre persone. Lo sappiamo, i gruppi Facebook dedicati a questi temi, come a tanti altri di salute, hanno decine di migliaia di iscritti che si scambiano informazioni di continuo. E in questi gruppi purtroppo girano anche molte informazioni che sono scorrette, tante pratiche che sono alternative, oppure quello che ha sentito dal cugino che funzionava, quindi vedi, sprova anche tu. In alcuni gruppi in particolare poi si radicano anche delle convinzioni, come l'idea che le creme solari facciano male, per esempio, perché esistono anche gruppi che sostengono queste cose. È più o meno quello che è capitato questa volta. È il consiglio di usare questa cipria come protezione solare anche sui bambini circola in questi gruppi ed è arrivato anche a qualche influencer da centinaia di migliaia di follower. Comunque, per farla breve e arrivare poi al succo di questa vicenda, dopo aver indagato un pochino, io ho raccontato le cose che vi abbiamo riassunto qua adesso in alcuni post fatti sui miei profili social, mettendo in guardia dall'uso di un prodotto del quale non conosciamo il grado di protezione. I miei post hanno creato un certo scompiglio, soprattutto all'interno di quei gruppi, e però poi sono arrivati anche ad Altro Consumo, l'associazione dei consumatori. E in un articolo pubblicato mercoledì 7 giugno, quindi questa settimana, Altro Consumo racconta di aver comprato la cipria e di aver fatto i test secondo gli standard condivisi per quantificare l'SPF, cioè il fattore di protezione contro i raggi UVB, come già vi raccontavamo prima. E l'articolo dice testualmente i risultati indicano un fattore di protezione solare davvero molto basso, quasi nullo, quindi insufficiente per un'esposizione al sole sicura. Stesso lavoro anche per il fattore di protezione per UVA, che, di nuovo leggiamo testualmente, ha evidenziato un fattore di protezione dai raggi UVA bassissimo, irrilevante. Insomma, dice Altro Consumo, abbiamo i dati per poter affermare che il prodotto non fornisce una vera protezione al sole e per questo non è in grado di sostituirsi alla crema solare. L'azienda è stata interpellata ovviamente da Altro Consumo dopo che aveva effettuato questi test e ha risposto che la versione del prodotto analizzato non verrà più prodotta e ha anche ricordato come non sia mai stato commercializzato come prodotto solare in quanto si tratta di un prodotto da make-up di cosmesi decorativa. E qui anche per completezza aggiungiamo che a maggio il Comitato di Controllo dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, lo IAP, aveva fatto qualche verifica sui messaggi forniti dall'azienda segnaliamo e qua citiamo sempre testualmente che veicola promesse non veritiere. Ebbene ricordare che quella cipria era da un punto di vista formale solo una cipria aveva qualche riferimento nel nome al sole e all'azione riflettente indicata appunto nelle istruzioni però appunto niente di più. A farla percepire come un prodotto per la protezione solare è stato tutto un contorno che è molto tipico dei tempi in cui viviamo e che fa sì che questa storia vada bene al di là della singola vicenda come dicevi già tu prima Mignetti. A plasmare la percezione del prodotto hanno contribuito una comunicazione non ufficiale attraverso forum, gruppi, social, passaparola, ma anche la possibile risposta al bisogno di avere un protocollo semplice da usare per risolvere un problema complesso senza dover usare farmaci o più in generale la chimica che è sempre percepita come cattiva. Si tratta di dinamiche che possiamo individuare facilmente in molti altri ambiti e che ci raccontano però anche delle difficoltà di tutelare davvero i consumatori. Anche perché le regole della comunicazione dei prodotti sono chiare e valgono per tutti, sono spesso anche normate, ma in un contesto in cui la comunicazione però esce dai canali ufficiali e si perde in tutti quei rivoli più informali che citavi anche tu prima, quindi i social network, i gruppi su WhatsApp e quant'altro, che hanno dei volumi di traffico enormi con tantissime persone poi che li seguono ecco allora ci si può perdere in questi meandri e si può anche essere ingannati da certi messaggi che si trovano proprio su questi gruppi che non sono ufficiali e quindi in questo caso come vi consigliamo sempre visto che tutto sommato è gratis e basta andare su Google e fare una ricerca in più potete sempre provare a approfondire se c'è qualcosa che è troppo bella per essere vera oppure se vi insospettisce un pochino. Fatevi qualche domanda in più e ricordatevi anche che poi ci sono delle fonti affidabili su cui ci si può informare per esempio il post o una volta tanto facciamo un po' gli spavaldi con questo podcast. Megnetti, se ti chiedo al volo di dirmi il nome di un uccello che cosa mi rispondi? Ecco, questo è uno dei tuoi test quindi adesso Eh, ho detto al volo dai, al volo Vabbè, ok Piccione Ecco Ah, ma ho sbagliato? Eh no era proprio la risposta che mi serviva Ah, meno male Ok Perché tu vivi in città come ci vivo anche io molte delle persone che ci ascoltano vivono in città e quindi siamo un po' abituati a una fauna ristretta che conta poche specie di animali Nella nostra esperienza noi vediamo più spesso i piccioni di qualsiasi altra specie aviaria e quindi è normale che siano i più citati Anche perché di rondini se ne vedono pochine in giro ultimamente però è un'altra storia magari poi la racconteremo però comunque oltre al Columba Livia che poi è il nome scientifico del piccione selvatico occidentale esistono altre diecimila specie note di uccelli al mondo e si stima che ce ne potrebbero essere altrettante di non ancora scoperte e sistematizzate quindi occhi aperti dai pinguini agli struzzi passando per le galline e le aquile sono tutti uccelli e soprattutto gli unici dinosauri viventi e questa cosa che gli uccelli sono dinosauri colpisce sempre l'immaginazione di chi lo ignorava ed è anche un ottimo argomento di conversazione da giocarvi a cena se volete Salvo non andiate a cena con persone che ascoltano ci vuole una scienza tra l'altro lo sai Magnetti che io sono stata fidanzata con uno che allevava struzzi Ma pensa quando andavano di moda gli struzzi gli allevamenti in Italia Sì sì proprio in quegli anni lì Sacco di piume Sugli uccelli abbiamo scoperto un sacco di cose soprattutto negli ultimi due secoli non solo sugli struzzi però continua a esserci un grande mistero che ci portiamo dietro da oltre 150 milioni di anni e cioè com'è che gli uccelli si sono messi a volare? Già perché per questo genere di cose evolutivamente parlando c'è sempre un prima e in questo caso era un prima di animali che non riuscivano a staccarsi dal suolo quindi che non sapevano volare non è quindi un caso se questo argomento qui appassiona da moltissimo tempo chi si occupa di paleontologia e di evoluzione come ha raccontato di recente Carl Zimmer che è uno dei giornalisti scientifici più famosi apprezzati del New York Times in un articolo che ha proprio pubblicato sul giornale scoprire come avvenne il passaggio dal suolo all'aria potrebbe offrire importanti indizi per comprendere meglio come funzionavano le cose sulla Terra milioni di anni fa e forse come potrebbero funzionare un giorno in un futuro lontano però tornando al passato nel 1861 mentre in Italia eravamo un pochino impegnati con l'unificazione del paese a Solnofen in Germania fu scoperto il fossile di un uccello vissuto 145 milioni di anni fa lo chiamarono Archaeopteryx e se lo andate a vedere al Museo di Storia Naturale di Berlino noterete che assomiglia un pochino a una chimera quindi a un misto di diversi animali infatti aveva ali più mate come gli uccelli dei giorni nostri però assomigliava anche ai rettili con denti artigli e una lunga coda ossea sembrava fosse una forma transitoria fra i dinosauri e gli uccelli moderni però non offriva molti elementi per ipotizzare come avesse fatto l'Archaeopteryx a sviluppare le ali non ci furono particolari progressi su questo fronte per quasi un secolo fino a quando un gruppo di paleontologi iniziò a notare alcune somiglianze tra lo scheletro degli uccelli dei giorni nostri e i teropodi il gruppo di cui faceva parte il Tyrannosaurus rex giusto per citare il più famoso di tutti c'era però un problema nessun fossile di teropode fino ad allora scoperto aveva le ali o comunque tracce di piume ne nacque quindi un acceso dibattito tra i paleontologi che sono in generale tipi piuttosto agguerriti e battaglieri anche se non sembrerebbe dal nome nel 1996 cambiò però tutto quando Pei Jishen un paleontologo cinese scoprì insieme ad altri colleghi nella Cina nord-orientale un fossile di dinosauro che sembrava proprio essere piumato risaliva 125 milioni di anni fa e fu chiamato in seguito Sinosauropteryx prima era molto ben conservato e portava le tracce di piccoli ciuffi di piume negli anni successivi furono scoperti fossili di altri dinosauri piumati e divenne evidente che non erano solamente i teropodi ad avere le piume le fogge cambiavano sensibilmente da specie a specie però era comunque una costante tanto che oggi i paleontologi ritengono che gli antenati dei dinosauri fossero tutti piumati ipotizzano quindi che le piume nel mondo animale esistessero prima dei dinosauri e non è un dettaglio da poco quindi è venuto prima l'uovo o la gallina le piume sempre muovendoci sulle ipotesi sembra che il piumaggio servisse come isolante termico un po' come avviene oggi per molte specie di uccelli poi alcuni dinosauri continuarono a crescere diventando gli animali enormi che ci vengono in mente quando pensiamo ai dinosauri oggi le specie più voluminose disperdevano meno il calore e persero via via le piume un po' come è successo agli elefanti quando hanno perso quasi completamente il pelo nel corso della loro evoluzione i teropodi svilupparono varie fogge di piume fino ad avere le prime ali rudimentali con le quali non riuscivano comunque a volare perché erano troppo piccole anche un po' sproporzionate Zimmer nel suo articolo su New York Times fa questo esempio che è abbastanza efficace dice pensate a un cavallo con le ali grandi quanto lo schermo di un portatile un computer portatile è difficile decollare è probabile che agli inizi le piume fossero utilizzate per il corteggiamento come del resto avviene ancora oggi tra moltissime specie di uccelli fatto sta che 160 milioni di anni fa avremmo visto teropodi con piume di ogni tipo come iniziamo a scoprire anche grazie ai fossili ritrovati negli ultimi anni dove la presenza delle piume è sempre più evidente e se ne trovano sempre di meglio conservati alcuni di questi animali utilizzavano le loro ali goffamente probabilmente per bilanciarsi o per risalire terreni scoscesi un po' come vediamo fare alle galline dei giorni nostri non avevano però una struttura muscolare e ossea adeguata per poter volare che è un'attività che richiede una grande forza ed energia e il fatto che fossero una via di mezzo tra gli antichi dinosauri e gli uccelli non deve comunque trarci in inganno perché evidentemente erano animali a loro modo efficienti e in grado di cavarsene greggiamente visto che popolarono il nostro pianeta per decine di milioni di anni alla fine intorno a 130 milioni di anni fa le cose cambiarono nuovamente con i primi uccelli che presero due grandi strade evolutive diverse e indipendenti da una parte gli e-ornites che ha portato a tutti gli uccelli oggi viventi e dall'altra gli enanti-ornites che furono per milioni di anni i veri protagonisti del cielo questi ultimi assomigliavano molto agli uccelli che vediamo oggi ma a quanto pare avevano una caratteristica molto particolare invece di cambiare le piume gradualmente in modo da rimanere un po' sempre coperti come fanno gli uccelli odierni sembra che gli enanti-ornites perdessero stagionalmente tutte le piume in un colpo solo dovendo quindi trascorrere diverso tempo senza l'isolamento termico adeguato speriamo che lo facessero in estate ecco qua dobbiamo anche dire che non è chiaro se fosse effettivamente così e ci sono diversi studi intorno a questi animali ancora la questione è dibattuta di certo sappiamo che la loro storia si interruppe drasticamente quasi 66 milioni di anni fa quando si verificò l'estinzione di massa del cretaceo paleogene quella che si ipotizza fu causata dall'impatto di un grande asteroide con la terra il repentino cambiamento del clima comportò in breve tempo l'estinzione di circa tre quarti di tutte le specie che popolavano la terra compresi i dinosauri piumati non uccelli cioè tutti i dinosauri che abbiamo in testa quando pensiamo ai dinosauri gli e-ornites riuscirono a scamparla forse perché avevano becchi adatti per cercare i semi nel sottosuolo con cui puoi sopravvivere rispetto ai dinosauri erbivori o che mangiavano piccoli animali che invece erano rimasti senza prede gli e-nanti-ornites invece come abbiamo visto cambiavano tutte le piume insieme e probabilmente non sopravvissero al clima che era diventato molto più freddo eh sì quando c'è un imprevisto come un asteroide può anche finire così eh poverini poveri e-nanti-ornites eh sì comunque in questa veloce corsa attraverso 160 milioni di anni abbiamo solo scalfito un argomento che come avrete intuito è sterminato ed è ancora molto dibattuto è soggetto a tante revisioni man mano che si scoprono nuovi fossili che probabilmente un giorno ci aiuteranno a capire come gli uccelli si misero a volare ma è anche un modo bellissimo per guardare con occhi diversi il prossimo piccione che incontrerete per strada o lo struzzo blackbird singing in the dead of night take these broken wings and learn to fly all your life you were only waiting for this moment to arise you were only waiting for this moment to arise nel Regno Unito vogliono coltivare una varietà di piselli che non hanno il sapore tipico di questi legumi sapranno di cioccolato? no menta? no tamarindo? e smettila non sapranno di niente ah bello piselli appena usciti dal baccello e che non sanno di nulla insomma fascinante va bene direi che oggi con la quota dei siparietti siamo a posto per questa puntata e anche forse per la prossima tra l'altro ci dicono che ogni tanto siamo un po' cringe quando facciamo questi siparietti quindi in realtà siamo proprio così davvero anche nella vita comunque la storia che vi raccontiamo è interessante perché mostra come il cambiamento dei gusti e anche una maggiore attenzione alla sostenibilità stimolino la creatività per ragioni ambientali ed etiche a seconda dei casi un numero crescente di persone preferisce non consumare carne e sta passando quella che viene definita finta carne o carne vegetale ne esistono di vari tipi come vi avevamo raccontato nella puntata del 2 dicembre 2022 che potete andare a recuperare però molto spesso l'ingrediente principale di questa finta carne è la soia e di soia ne consumiamo enormi quantità che vengono prodotte soprattutto in Sud America Brasile e Argentina sono il primo e il terzo paese per produzione mondiale con gli Stati Uniti belli lì nel mezzo dove spesso la produzione però non è controllata a sufficienza e ci sono anche grandi problemi di deforestazione la soia non può però essere prodotta dappertutto e quindi se vuoi ridurre le importazioni come vorrebbe fare il Regno Unito devi trovare un buon sostituto tra i parenti della soia cioè i legumi ed è qui quindi che i piselli sono stati visti come i sostituti perfetti perché possono essere coltivati con relativa facilità e contribuiscono anche a fertilizzare il suolo per altre coltivazioni c'è però un piccolo problema che i piselli hanno un sapore molto distinguibile che rende difficile il loro impiego per la carne finta ed è per questo motivo che nel Regno Unito vogliono selezionare una varietà di piselli priva di sapore come dicevamo all'inizio la soluzione dice un gruppo di ricerca del John Innes Center di Norwich potrebbe arrivare da una scoperta effettuata 30 anni fa quando era stato scoperto un gene coinvolto nella perdita di sapore dei piselli dopo la raccolta questa cosa di perdere il sapore man mano che passa il tempo dalla raccolta è abbastanza comune tra i vegetali capita anche ai pomodori per esempio comunque l'idea era di incrociare le piante che venivano solitamente coltivate con una varietà selvatica di piselli in cui quel gene non funzionava quindi era un gene spento in modo da avere piselli che mantenessero più a lungo il sapore dei piselli appena raccolti agli agricoltori ovviamente non sembrava vero però finì che il progetto fu abbandonato quando dai vari incroci venivano fuori piselli che non sapevano di niente ora però quel fallimento potrebbe costituire un'opportunità per coltivare piselli che effettivamente hanno poco sapore ma che potrebbero essere ideali per la carne finta e per altre preparazioni vegane una società di Belfast che si chiama Germinal ha ottenuto un finanziamento pubblico per provarci e quindi nei prossimi mesi le varietà di piselli comunamente coltivate saranno incrociate con la varietà selvatica già identificata all'epoca per selezionare una nuova varietà che dovrà poi mostrare di poter crescere facilmente e in modo sostenibile naturalmente quindi ci saranno poi le prove in campo piante di questo tipo potrebbero essere poi coltivate altrove ma come per tutte le cose si dovranno comunque fare bene i conti sull'effettiva sostenibilità del progetto e sul risultato finale nel piatto perché poi anche il gusto vuole la sua parte siamo arrivati al fondo anche oggi di questa puntata e però prima di salutarci vi ricordiamo che domani che è sabato 10 giugno a Verbagna ci sarà una nuova edizione di Talk le giornate organizzate dal Post per incontrarsi e parlare un po' di tutto e ci saremo anche noi Megnetti perché abbiamo un incontro il pomeriggio un po' prima delle 4 dove faremo una puntata live di Ci vuole una scienza sì o almeno una specie e poi naturalmente ci saranno tante altre persone del Post dal peraltro direttore Luca Sofri al vice direttore Francesco Costa ma ci saranno anche Chiara Lessi che è nostra collega di podcast Luca Misculina Alessandra Pellegrini De Luca Vera Gheno e Stefano Nazzi e a proposito di Stefano Nazzi ci sarà un appuntamento imperdibile alla fine perché Stefano Nazzi e Emanuele Megnetti faranno un indagini incontro alla scienza un crossover intanto vi ricordiamo che trovate queste tutte le puntate del podcast sulla app del Post e su tutte le principali piattaforme compresa Spotify dove potete seguirci per non perdere le varie puntate se volete scriverci potete farlo come sempre alla casella di post elettronica ci vuole una scienza chiocciolalpost.it e se volete abbonarvi andate su abbonati.ilpost.it seguite le istruzioni e noi ve ne saremo per sempre grati decisamente e ci sentiamo come sempre venerdì prossimo ciao ciao conosco Ant da molti anni per me è come una grande famiglia perché ho visto da vicino il loro lavoro e il loro impegno i medici gli psicologi e gli infermieri Ant vanno a casa dei malati di tumore e li curano gratuitamente ogni giorno però hanno bisogno del tuo aiuto destina il tuo 5 per 1000 vai su ant.it e scopri come fare